we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi 31 marzo con un largo anticipo rispetto alle altre volte la patch 12.30 è finalmente disponibile 1 giga e 8 da pc 2 giga e 6 da ps4 2 giga e speech da switch e 3 giga da xbox da mobile sinceramente non lo so un sacco di aggiornamenti in questa nuova patch hanno inserito tanta roba nuova abbiamo scoperto anche deadpool e insomma voglio come al solito in questo video farvi vedere tutto quello che c'è volevo prima però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e di attivare la campanella per non perdere le notifiche sui miei video news e allora ragazzi andiamo subito con questa tavolozza nera a vedere le prime cose si parte da deadpool dalla modifica che verrà fatta alle consegne di rifornimenti e molto probabilmente anche all'autobus della battaglia siamo nei file di gioco e come vedete verrà inserita la maschera e la colorazione della mongolfiera sarà rossa quindi sicuramente un omaggio a deadpool ed eccolo qua finalmente ragazzi senza maschera lo avremo anche con la maschera la skin di deadpool dovrebbe esserci regalata in teoria al termine delle sfide di queste settimane di queste coppie che ci hanno dato non è ancora confermato che sia un regalo potrebbero averci semplicemente regalato tutti gli oggetti dedicati ma la skin potrebbe essere da shoppare ancora non si sa con precisione andando avanti però abbiamo invece una conferma ve ne avevo già parlato qualche video fa arrivano le doppie pistole scusatemi le doppie pistole dedicate appunto a deadpool che potrebbero essere inserite forse nella nuova modalità sì perché dovrebbe arrivare qualcosa proprio un ltm un po come quella di john wick per intenderci come quella della fuga per deadpool e infatti le doppie pistole sono dedicate anche queste a lui con una copertura personalizzata e andando avanti non ci fermiamo lì una conferma per la nuova modalità è appunto il nuovo ombrello che potrebbe essere una delle ricompense qualora vincessimo un match in questo nuovo metodo di gioco bellissimo perché si va in poche parole ad inserire insieme alla collezione di tutti i nostri ombrellini delle varie season e sicuramente una chicca che è meglio non lasciarsi scappare ma cominciamo a vedere gli outfit presenti in questa patch si parla ovviamente di pasqua perché siamo sotto il periodo pasquale e quindi abbiamo una skin con quattro stili il quackling come vedete giallo azzurro rosso e verde una skin che potrà essere appunto selezionata in base ai nostri gusti ma abbiamo anche la skin hitman un po più particolare perché riprende una specie di bersaglio futuristico e se lo guardiamo bene potrebbe assomigliare un pochettino ai bot quelli che erano presenti nella modalità del parco giochi se non ricordo male verso le ultime season del capitolo 1 vi ricordate i bot di allenamento è molto molto somigliante invece qua è chiaro siamo proprio nel mezzo della pasqua abbiamo ban ban un coniglio gigante che non si è ben capito se sia cattivo oppure no che era da prima o nuovo e si trasforma in questa roba un pochettino mostruosa molto carino sicuramente una skin da tenere in considerazione per chi colleziona gli outfit degli eventi arrivano invece anche dei nuovi stili per quanto riguarda bubussette e notte notte diventano molto più dark come vedete io personalmente li preferisco nella variante originale però sicuramente una cosa che otterremo gratuitamente se abbiamo queste skin e non sono gli unici che modificheranno per quanto riguarda la scelta dello stile ma siamo anche come vedete sui due conigli pasquali il primo lei praticamente come vedete diventa bunny brawler in versione dark mentre lui diventa rabbit raider in versione dark entrambi molto carini vi ricordo che anche l'anno scorso è uscita una skin abbastanza sfumata per quanto riguarda il dark che era l'incubanni tra cui un piccone veramente meraviglioso la carota di metallo tanta tanta roba abbiamo invece una nuova skin che non c'entra nulla si chiama redux anche questo va un pochettino invece a riprendere il discorso della storyline con l'oro come vedete entrambe le braccia sono meccaniche a delle pistole e sembrano proprio essere proprio d'oro quindi staremo a vedere se per caso c'entrerà o semplicemente è un omaggio alla storyline arrivano invece le uniche due skin non comuni di questa pace il boxer versione maschile fa cagare e il boxy versione femminile fa ancora più cagare andando avanti ragazzi stella invece dovrebbe essere una variante anche questo anche questa per una skin che io avevo già visto però non riesco a ricordarmi se fosse pasquale o natalizia credo sia nata no credo sia quella praticamente con la maschera non riesco a ricordarmelo ma questa dovrebbe essere la sua variante ovviamente non potevano mancare le coperture abbiamo shot in gallery copertura dedicata alla skin in hitman abbiamo fringles copertura anche questa reattiva con dei triangolini gialli e delle sfumature rosse che si muovono lungo tutta l'arma e ovviamente i picconi box basher arriva ed è una delle poche skin questa non comune ad avere addirittura un piccone dedicato abbiamo il firing line che invece è il piccone sempre della skin hitman molto carino anche questo reattivo probabilmente avrà dei neon delle luci che si muovono e bionic synapse come vedete una skin non comune potrebbe essere quello del coniglio di cioccolato è stato trovato anche una cosa molto curiosa penso sia un adesivo sapete quelli che potete far apparire dal nulla il banana badge non so in che modo ci venga dato credo sia probabilmente il premio per qualcosa comunque sempre meglio farvelo sapere terminiamo con le ultime cose dedicate agli outfit il crafted cardboard anche questa una copertura per quanto riguarda il periodo pasquale e il cioccolateri che invece è molto più carina perché trasforma l'arma appunto in cioccolato e piano piano va a scartarlo abbiamo gli ultimi backpack quello del hitman che si chiama appunto hit me e il choco shell quindi lo scudo di cioccolato per quanto riguarda invece il coniglio varianti dark anche per i due backpack delle skin dei conigli leg shell e l'hard boiled quindi tanta tanta roba bionic relay invece è il backpack dedicato alla skin rara che abbiamo visto poco fa non poteva mancare ovviamente un emoji un balletto se vi ricordate bene l'anno scorso ci avevano fatto ci avevano dato da scioppare ovviamente la skin salta coniglietto quella che andava in giro per tutta la mappa questa è molto simile si chiama opti però in mano tiene un cestino probabilmente con le uova firing line l'avevamo invece già visto viene inserito anche il deltaplano che molti dicono essere quello dedicato a maia 4 varianti più la versione base molto carino potremmo scegliere appunto di averlo come preferiamo e andiamo avanti ragazzi no non andiamo da nessuna parte perché in realtà abbiamo caspita ho perso la mappa e le altre cose ve la voglio fare vedere io comunque perché c'è una curiosità molto molto interessante per quanto riguarda ragazzi la nuova modalità di cui vi parlavo poco fa ero convinto di averla inserita e invece non ce l'ho non è nessun problema guardate un pochettino che cosa è stato trovato abbiamo praticamente una mappa che va a riprendere ovviamente la mappa normale la mappa principale del gioco solo che ci sono delle x che dovremmo probabilmente andare a visitare questa mappa è molto curiosa per un paio di cose la prima è ovviamente le x rosse che saltano subito all'occhio e che dovrebbero essere dedicate a delle sfide per deadpool la seconda invece è che se ve la voglio zoomare in modo che lo vedete bene anche voi se guardiamo ragazzi no non riesco a zoomarla vediamo se riesco così ecco fatto se guardiamo in alto a destra dove c'è la posizione dello yacht guardate un attimino praticamente la parte lo yacht si è notevolmente spostato ed ha raggiunto lo sfocio del fiume lì a destra perché vi parlo dello yacht perché lo yacht ragazzi è molto molto importante in questa patch in quanto sarà proprio lo stesso deadpool a prendere il possesso dello yacht quelle che vi sto facendo vedere in questo momento sono delle degli ornamenti delle cose che troveremo nello yacht e che sono come vedete dedicate a deadpool tra cui anche la maschera d'oro la maschera sulla statua d'oro ma la cosa che in realtà ci dà la conferma che deadpool prenderà possesso è proprio il nuovo set di sfide che in realtà è una sfida sola che ci chiederà di visitare il deadpool's yacht quindi proprio lo yacht di deadpool ci darà come ricompensa una base musicale insomma ragazzi anche per questa patch molte cose sono arrivate molte cose dovremo scoprirle e le scopriremo in game io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi rivolgo ai ragazzi che mi stanno guardando in live sulla piattaforma viola ragazzi non me ne sto andando sto mandando semplicemente la chiusura di questo video vi ringrazio per averlo guardato io sono in live sulla piattaforma viola ciao non mi ricordo il tasto non è questo non è questo ho un lapsus freudiano lo faccio a mano